E' pronto a nascere il terzo gruppo bancario italiano dopo Unicredit intesa. La fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano di fatto crea un colosso in ambito creditizio lungo la penisola. Presenza capillare in ogni regione degli sportelli, oltre 2.400 e 113 miliardi di euro di impieghi. I vertici degli istituti di credito hanno ribadito che non ci saranno tagli del personale né licenziamenti, solo un eventuale e limitato piano di uscite con il fondo esuberi. Il giudizio positivo viene espresso dal sindacato dei bancari Fist-Cisla attraverso il segretario generale Giulio Romani, che sottolinea come ci sarà un'integrazione della rete degli sportelli per i clienti, senza alcuna sovrapposizione e senza incidere sul personale. I tempi tecnici per la fusione non saranno brevi, ma dopo l'annuncio delle necessarie autorizzazioni, il tutto dovrebbe essere pronto per il mercato dopo l'estate. Prima bisognerà predisporre un piano industriale congiunto, che vede tra l'altro una sforbiciata con maxi cessione delle sofferenze di circa 10 miliardi entro il 2019. Non ci dovrebbero essere particolari scossoni, secondo il piano studiato per la fusione, che di fatto complessivamente determina, anche dopo le indicazioni arrivate dalla Banca Centrale Europea, un rafforzamento della situazione patrimoniale del nuovo gruppo bancario. E cosa succederà per i risparmiatori correntisti delle due banche? È presto per capire cosa potrebbe accadere una volta uniti definitivamente i due istituti. Bisognerà in particolare vedere se prevarranno, dicono le associazioni dei consumatori, le condizioni attualmente più favorevoli per i clienti delle due banche, anche dopo la fusione, e per tutti i clienti del nuovo gruppo bancario.